Guardate qua, trovate nulla di strano in questo tweet? Si tratta di un tweet pubblicato sul profilo ufficiale di Deutsche Bank e che riporta un'immagine con al centro in bella vista il logo di Bitcoin. Guarda, vi faccio vedere meglio questa immagine che hanno postato. Direi che è proprio esplicita. Ma perché Deutsche Bank pubblica un tweet che palesemente è a favore di Bitcoin e quasi lo promuove? Ora, dovete sapere che Deutsche Bank, sebbene ultimamente abbia un po' di problemi, rimane la più grande banca tedesca e anche uno dei gruppi bancari più grandi del mondo. E dovete sapere che da qualche tempo a questa parte si stanno interessando sia delle criptovalute e in particolare di Bitcoin. Ne parliamo in questo articolo del Cryptonomist, ovviamente vi metto il link in descrizione, in cui tra l'altro trovate anche il tweet di Deutsche Bank con l'immagine di Bitcoin. Dovete sapere che già qualche mese fa la banca, questa banca, aveva pubblicato un report, tra l'altro con autori come lo stesso autore che viene citato nel tweet, questa Marion Labour, o Marion Labour che si dir si voglia. In questo report che pubblicarono qualche tempo fa fecero l'ipotesi che addirittura le criptovalute potrebbero sostituire le valute fiat entro il 2030. Si è chiaro, questa non è la posizione ufficiale della banca, è semplicemente un'ipotesi che viene riportata in un loro report, in un loro studio, però la cosa importante è che dimostra che Deutsche Bank stia studiando approfonditamente le criptovalute, in particolare dal punto di vista tecnico-informatico e dal punto di vista finanziario. Ad esempio dal punto di vista tecnico-informatico è molto interessata anche alle cosiddette valute digitali delle banche centrali, cioè ad esempio il dollaro digitale o l'euro digitale. A me però personalmente interessa l'altro aspetto, cioè quello finanziario, perché dovete sapere che in Germania negli anni 20 del secolo scorso si è verificata una delle più importanti e clamorose spirali iperinflazionistiche che si siano mai visti con il marco tedesco che praticamente non valeva più quasi niente. Hanno dovuto prendere diversi provvedimenti per far sì che il marco tornasse ad avere un valore e questo episodio è rimasto profondamente radicato nella cultura tedesca. I tedeschi sono profondamente contrari a correre rischi dal punto di vista dell'inflazione. Quindi a me personalmente non stupisce per niente che una grande banca tedesca, anzi la più grande banca tedesca, stia studiando ad esempio bitcoin perché ha natura deflattiva. Cioè bitcoin ha una massa monetaria che aumenta ma in maniera assolutamente programmata e non modificabile e questo aumento diminuisce nel tempo finché tra diversi decenni non smetteranno di essere prodotti nuovi bitcoin e non si potranno più produrre nuovi bitcoin. Quindi non c'è da stupirsi se le criptovalute e in particolare bitcoin interessino ad una banca tedesca sia lato tecnico informatico che lato finanziario. In fondo, visto che tra l'altro in questo periodo si sta parlando molto di creare denaro dal nulla, creare tanti dollari, creare magari anche tanti euro e distribuirli alla gente, cosa che potrebbe innescare un po' di inflazione, magari non troppa ma comunque un po' di inflazione, ecco che a questo punto diventa importante per chi ha risparmi in denaro e in cash trovare delle alternative che abbiano minore impatto dall'inflazione, che soffrano di meno della perdita di potere d'acquisto. E in questo bitcoin ha un senso prenderlo in considerazione perché è stato proprio creato per avere invece una natura deflattiva, sebbene nel tempo. Tenete presente che ad oggi di bitcoin ne vengono ancora creati 12,5 ogni 10 minuti, pari più o meno al 4% dell'annuo dell'intero ammontare di bitcoin esistenti al mondo, ma già a partire da maggio, da più o meno da metà maggio 2020, questa creazione verrà dimezzata, portata a 6,25 bitcoin ogni 10 minuti e quindi si passerà ad un incremento annuale della massa monetaria di bitcoin di circa il 2%, in realtà inferiore al 2%. Tra l'altro il 2% è proprio il target di inflazione, ad esempio, della banca centrale europea per quanto riguarda l'euro. Inoltre, da quando è nato bitcoin, anno su anno ha praticamente sempre aumentato il proprio valore medio, tenete presente che bitcoin è nato nel 2009, in realtà il valore, le prime volte che ha avuto un valore perché è stato scambiato, ad esempio in dollari, è stato nel 2010, dal 2010 fino al 2019 un unico anno il valore medio è stato inferiore rispetto all'anno precedente, nel 2015, mentre addirittura anche nel 2018 il valore medio è stato maggiore rispetto al 2017 che è stato l'anno della grande bolla e anche nel 2019 il valore medio annuale è stato maggiore rispetto a quello del 2018. Quindi il valore di bitcoin nel corso degli anni è praticamente sempre aumentato, tranne nel 2015, mentre invece il valore dell'euro, ad esempio, o anche del dollaro, è sempre diminuito anche se ultimamente sta diminuendo pochissimo perché ultimamente negli ultimi anni c'è pochissima inflazione su euro e su dollaro ed è anche per questo che le banche centrali stanno spingendo per aumentare l'inflazione di euro e dollari, ad esempio creandoli dal nulla e distribuendoli alla gente. Quindi non bisogna stupirsi affatto se un colosso della finanza tradizionale come Deutsche Bank si stia interessando sia alla tecnologia delle criptovalute che all'asset finanziario bitcoin, tanto da metterlo in bella vista al centro in quelle immagini quasi a volerlo promuovere. Anzi, vi dirò di più, secondo me proprio la natura deflattiva di bitcoin potrebbe aiutare la finanza tradizionale, ad esempio, a creare inflazione sulle monete tradizionali, perché dovete sapere che l'inflazione ha lati negativi ma anche lati positivi. Un lato positivo è quello di ridurre il peso e il valore reale, quindi non quello nominale ma quello reale, del debito e quindi un po' di inflazione sostenuta farebbe bene soprattutto a quei paesi e a quelle attività, a quelle aziende che hanno grossi debiti. Quindi, dall'altro lato, se chi ha risparmi in euro può convertirne una parte in bitcoin, sperando che il bitcoin invece non perda potere d'acquisto nel corso degli anni, ecco che diventa più plausibile immaginare che le banche centrali possano iniziare a pompare un po' di più la stampa, la creazione dal nulla di denaro o fia tradizionale, correndo il rischio di avere un po' più di inflazione. In un paese come la Germania, in cui c'è il terrore dell'inflazione, ecco che bitcoin potrebbe trovare terreno fertile a diffondersi proprio come riserva di valore. Ricordatevi, non guardate le oscillazioni sul breve periodo di bitcoin, perché sul breve periodo va molto su, va molto giù, va molto su, va molto giù, eccetera, eccetera. Guardate l'evoluzione del suo valore sul lungo periodo, perché quando parliamo di riserva di valore per proteggersi dell'inflazione parliamo proprio dell'oscillazione del prezzo medio anno dopo l'anno e non del fatto che un giorno possa perdere il 20%, il giorno dopo possa risalire del 10% o questi movimenti quotidiani che lasciano un po' il tempo che trovano sul lungo periodo.